Era un giovane alla Guga. Quanti anni avrà avuto? 35. 35? 35 anni e la macchina è del padre, però lui non aveva la patente. Ma perché l'aveva già ritirata? Quindi si è spaventato ed è scappato? E mi fa vado vado perché sennò finisco nei guai. E se n'è andato. L'ho pregato, è stato chiuso tanto peggiorare. Altre auto coinvolte? Allora, la panda, quella lì. È quella che ha preso dentro questo mio spazio.